Oggi qui in Valpolcevara l'inaugurazione di questo ambulatorio morego, in che modo si inserisce rispetto ai servizi sociali che le persone chiedono? Questo è un ambulatorio sanitario, espressamente quindi rivolto all'obiettivo di offrire delle prestazioni sanitarie in varie specialità, però anche l'obiettivo è quello di fornire anche un apporto alla cultura, alla cultura della salute, alla cultura del benessere, non soltanto a svolgere prestazioni in senso stretto. Il nostro obiettivo è quello di non certo fare concorrenza al servizio sanitario pubblico, questo no, integrarci con loro però, integrarci col servizio sanitario, perché è un periodo di grossa difficoltà economica per tutti, quindi da una parte il servizio sanitario non riesce a rispondere a tutte le necessità e d'altra parte noi vediamo quante persone stanno rinunciando alle cure proprio per l'accessiva spesa. Quindi non è uno slogan, se possono sembrare delle parole fatte, noi in realtà davvero ci proponiamo di fornire delle prestazioni di qualità con dei prezzi contenuti.